Grazie a tutti ragazzi e a tutti i miei vlog Tutti ragazzi ci sono i miei vlog Comunque buon Halloween a tutti Ve lo ridico ragazzi Perché ho fatto noto di ogni video Di stasera ve lo dico Sempre Ragazzi Cane la finisci? Basta Grazie Allora ragazzi Se non avete visto ragazzi il mio video di Call of Duty Deve Pops 2 che ho fatto Ve lo lascio in descrizione Il link del mio video Comunque ragazzi Ci sono ancora un mio vlog Perché ragazzi Ehi Basta amore Aspetta ragazzi Aspetta ragazzi So Aspetta ragazzi Ehi Qua sta oltre qua 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 Quarta guarda non so come Giusto no? Giù Ok pro scelmi giù E giù umori vai giù E giù umori vai Bravo Allora ragazzi ci siamo qua ragazzi Nuovo vlog, perché ragazzi? Perché non so più dovevo fare ho fatto un vlog un vlog ci spara no come faccio? ah no no ho fatto i scherzi ho fatto ragazzi il vlog perchè nel video di cops 2 ragazzi nel video di cops 2 scusate scusate ma alla fine non ho mi sono invitato di salutare cioè devo dire ragazzi questo video vi è piaciuto lasciate un commentare scrivetevi ciao al prossimo video bella raga devo farlo così ragazzi però mi sono dimenticato non è che mi sono dimenticato lo ho schicciato direttamente schicciato sul pulsante e mi ci è spento e poi non ci ho pensato poi ho detto ormai non ho fatto più il video come ho raccontato tutto ho detto tutto basta non me la faccio di un'altra partita già la seconda volta che registravo quel video vorrei finire le cose è la seconda volta che registravo il video ma è scala ma è scala è scala ma è scala ma è scala ma è scala ma è scala e quindi no basta non ci ho lasciato più e lo devo spegnere e il video infatti sotto in descrizione ha scritto scusate ragazzi se non ho fatto il saluto e non ci ho basta ma è scala pagate ma è scala è scala ma è scala ma è scala mi è scala mi è scala e lì ragazzi ovviamente e lì ragazzi c'è un'altra scala così ma non si deve per niente allora mi porto lì ragazzi ve la faccio vedere questo qui ragazzi va appena davanti va appena davanti la porta ragazzi per quando faccio il video vedete lo spettacolo sarà un po' fermo se riesco perfetto poi se hai visto il video qua per sping te lo ho scritto ragazzi se non ce lo vuoi allora ragazzi faccio così guardate faccio così faccio così ragazzi al di fuori logico faccio 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 ragazzi come vi ho detto la schermata rosso perfetto ragazzi la schermata rosso sicuro che cosa mi puoi tornare tornare bene ragazzi siamo tornare buona ragazzi uscirà un nuovo episodio come vi ho detto ragazzi c'è una settimana accaduta la scuola che bella che bella porca bellissima e quindi ragazzi io voglio andare avanti un posto di roba perchè non sono più conti faccio rosso 5 niente fatto voler voler perfetto penso che vi è rosso ragazzi c'è un sfumatore stichissime ecco non voglio non voglio dire scusami sto dando un grosso mouse mi sta piacendo quello che ho lanciato oggi non è il mio vero mouse ho lanciato starmer ragazzi che non l'ho uso funziona però non l'ho voluto cominciare di più spiego tanto tanto più circa posso ragazzi o queste cose no no già che ci siamo ragazzi ho cominciato un po' di lì ti faccio vedere le minore lattine allora le minore lattine sono due e un'altra 5 ma magari un po' un po' un po' rosso 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 ragazzi miei no che sono queste che sarebbe questa qui comunque ragazzi questa è quella di l'ho preso un altro piano mi piace questo poi ragazzi questa questa ragazza che all'inizio mi sembrava l'isola dell'xbox ragazzi poi in germania ragazzi tutte le lattine e le bottiglie guardate per esempio vedete ragazzi che al nostro simbolo aspettatevi un attimo un attimo sac tutte le lattine hanno sto coso qui vedete sto bollino ragazzi sac 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 anche questa anche tutte quelle grazie quindi sono 25 per cento praticamente ragazzi tu quando compri la lattina poi c'è un distributore ai negozi che tu butti le lattine e le bottiglie e ti hanno 25 di per cento ti fanno lo scontino e tu vai quando vai a fare la spesa gli dai lo scontri lo diminuiscono tipo non so dai un paio di un sacchetto di bottiglie non so arrivi 7 euro 11 euro con tutte queste bottiglie così così allora ragazzi queste bottiglie qui non so se non sviene se non sviene per favore muore allora ragazzi le lattine queste guardate un po' fermo queste lattine qua ragazzi danno 8 centesimi le bottiglie grandi ragazzi non ve la posso vedere se non ve la posso vedere se non ve la posso 25 per cento guardate voi volete vedere qua questo qua sotto al mio dito questo qua detto 25 per cento che c'è visto 25 centesimi non lo farò tomare perfetto ragazzi e questo ragazzi è il riciclaggio faccio l'abbè scritto anche qua ma quando la tieni in merda ma ti butto aspetta qua non c'è scritto però ragazzi voi basta vedere questo simbolo vabbè in Italia non c'è ragazzi però in Germania si vedete questo simbolo qua è piccolino solo che se zoomo io è il 25 per cento vedete ragazzi è il 25 per cento vabbè ragazzi penso che ne ho 8 però non sono sicuro ma se c'è scritto ve lo dico ragazzi ma non c'è scritto anche questa non l'avete vista questa qui che sempre ragazzi Red Bull tutto Red Bull non so perché non so perché non so perché non so perché sono tutti Energy Green tutti sono Energy Green quindi ragazzi per questo vlog questo è anche tutto lasciatemi una commentate iscrivetevi alla fine che seguire il video di conoscritti e talaga ciao voglio notare la scomata rossa boh grazie ciao